Una quarta edizione è sicuramente scoppiettante in considerazione del fatto che ci saranno 40 squadre partecipanti tra cui 32 maschili e 8 femminili, quindi una bella partecipazione anche di bambine in questo torneo che è diventato un appuntamento importante non solo nell'ambito ovviamente della provincia di Verona ma nell'ambito Veneto perché il Veneto sostiene questa iniziativa, è un circuito Veneto che coinvolgerà tutte le squadre delle sette province per cui ci sarà davvero una grande partecipazione, una grande risposta in un progetto sportivo e sociale nell'anno in cui la regione Veneto, ovviamente la regione sapete dello sport 2024 per cui credo che sia anche una grande festa che deve vederci protagonisti nei campi da calcio non solo ma anche fuori perché ovviamente sappiamo che lo sport ha degli effetti sociali straordinari e dobbiamo da questo punto di vista condurre le nostre famiglie a portare i ragazzi a fare sport in qualsiasi impianto sportivo perché credo che mai come in questo momento dobbiamo investire nello sport sociale senza distinzione ma con un intento unico, l'intento quello ovvero di dare ancora una formazione sempre più completa ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. Complimenti alla società sportiva del Bovolone, complimenti all'organizzazione del comitato che organizza questo torneo che è internazionale e che muove davvero tantissimi volontari perché dobbiamo ricordare che attorno allo sport ancora esiste un mondo di volontari silenzioso, umile ai quali dobbiamo sempre dire grazie per quello che fate. Con grande soddisfazione oggi siamo qua a presentare questo bellissimo evento legato allo sport e come abbiamo detto prima sociale perché chi fa sport fa sociale grazie a tutto il volontariato ma grazie alla società calcio che crede sempre nei valori dello sport e grazie agli organizzatori del Pulcino d'Oro a livello internazionale. Qua vuol dire vendere sport, vendere sport sano e tutto questo è un gioco di squadra, un gioco di squadra che aiuta le famiglie in difficoltà perché sappiamo che il Pulcino d'Oro fa sociale perché devolve tutto a queste associazioni che aiutano le persone in difficoltà, aiutano i ragazzi che non possono fare sport e aiutano veramente e cercano di portare tutti a fare questa attività importante e quindi il gioco di squadra dà l'isponso a tutti. Ringrazio in particolar modo il mio delegato allo sport che crede sempre in queste realtà ma grazie ai nostri impianti perché veramente abbiamo degli impianti importanti perché sappiamo che tutti vogliamo questi grandi tornei però ci vogliono anche le strutture, bisogna investire le strutture e noi stiamo investendo tanto perché investire nelle strutture, investire nel patrimonio vuol dire investire nella nostra comunità. Quello che il bovolone calcio sta creando in questi anni è credere in un'unica politica che è quella diciamo di lavorare nel settore giovanile, investire molto nel settore giovanile perché è quello che noi crediamo che sia il futuro. Questo lo vediamo anche, abbiamo investito, abbiamo creduto nel torneo del Pulcino d'Oro perché il torneo del Pulcino d'Oro è proprio nella categoria di questi giovani e noi stiamo appunto investendo molto su questa realtà diciamo, è lì dove vogliamo arrivare e dove vogliamo crescere molto. Dunque tutte le forze che la società di Bovolone vuole impegnare è proprio in questa realtà, in questo settore. Siamo arrivati alla quarta edizione del Pulcino d'Oro a Bovolone, per noi arriviamo qua con grande piacere troviamo come sempre una società molto motivata e troviamo un impianto sportivo veramente all'altezza. Queste sono due particolarità che a noi stanno molto a cuore. Bovolone è una realtà dinamica, è una realtà che sa coinvolgere sempre più società sportive basta vedere la novità anche del torneo femminile di quest'anno ed è una realtà che rispecchia un po' i valori che il Pulcino d'Oro sta portando avanti. Il Pulcino d'Oro si sta espandendo un po' in tutta Italia ormai abbiamo continue richieste di poter ospitare nelle varie regioni d'Italia il Pulcino d'Oro e tutto quello che rappresenta il Pulcino d'Oro. Siamo appena tornati dalla campagna, eravamo davanti alla reggia di Caserta ed è stato veramente veramente un grande successo. Noi siamo molto fermi nei contenuti del Pulcino d'Oro, lo ricordo sempre, sport, bambini, solidarietà. Le quote di iscrizione di tutti noi vengono devoluti a progetti che hanno a cuore i ragazzini e dentro c'è la kermessa sportiva, una kermessa che si fa sempre più importante, sempre più stimolante. Ci sono le stelle che sono i professionisti, c'è le big per così dire italiane seppur appunto si parla di Pulcini, quindi ragazzini di 11 anni ma ci sono anche le big internazionali. Noi sappiamo che dall'estero arriva il River Plate, dall'Argentina, arriva il PSV Eindhoven, arriva il Leeds dall'Inghilterra, il Benfica che ci fa vedere il calcio portoghese. Ne abbiamo veramente di tutti i tipi e per tutti i gusti e poi c'è il grande mondo dei dilettanti che è il mondo, il nostro mondo che finalmente si confronta su un profilo anche internazionale perché il Pulcino d'Oro è stato esportato anche all'estero. Il Pulcino d'Oro ha fatto quattro edizioni in Inghilterra, il Pulcino d'Oro settimana prossima sbarca in Olanda e probabilmente l'anno prossimo, che sarà la decima edizione, il Pulcino d'Oro andrà ancora più lontano. Le finali internazionali del Pulcino d'Oro sono dal 13 al 16 giugno prossimi quindi aspettiamo tutti a vedere, a saporare, a vivere le emozioni del Pulcino d'Oro.